Come qualsiasi altro ragazzo al mondo noi ci sviamo mattina, però invece di andare a scuola andiamo a vedere le onde. Oggi siamo in Asia, ma domani potremo stare in un'altra parte del mondo. Siamo molto fortunati di vivere la nostra passione e di viaggiare il mondo. Io sono Leonardo Iperavanti e siamo surfisti professionisti. Grazie a tutti.